David, ti prego, ti prego, tu devi aiutarmi a fuggire. Non toccate questo libro. No, tu non ti rendi conto. C'è qualcosa nel bosco. E sono convinta che sia qui con noi, nella casa, adesso. Ho liberato qualcosa da quel libro. Qualcosa di malvagio. Questa cosa si è attaccata all'anima di Mia. Dobbiamo ucciderla. Stanotte morirete tutti. Taglia! Taglia! Noi ti avremo. Non ci sfuggirai. Quando dormirai. Quando dormirai. Non ci sfuggirai. 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 Grazie a tutti.